Angelo Gonnella, comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuolo, continuano sempre più incessantemente i controlli per evitare la pesca di frodo e per far sì che siano sicuri gli alimenti che arrivano sulle nostre tavole? Sì certo, nell'ambito delle nostre attività di istituto, direttamente con i mezzi dipendenti da questo ufficio, ma anche con gli uffici dipendenti di Baia, Mondragone e Castelvolturno stiamo operando a lungo tutto il litorale Flegreo e Domizio per contrastare questo fenomeno ormai sotto controllo della pesca abusiva sia di mitili che di pesca in genere. Comandante, adesso ci stiamo avvicinando verso la stagione invernale, quali sono i consigli adesso di chi va in mare rispetto all'estate che è tutta un'altra cosa? Sì, fortunatamente abbiamo avuto un novembre, penso che sia memorabile per il tempo bello e ancora il mare è molto praticato da diportisti, da pescatori e anche dagli amanti del mare del sabato e della domenica. I consigli sono sempre i soliti, verificare le dotazioni di bordo prima di uscire in mare, verificare le condizioni meteo e verificare soprattutto di avere la benzina a bordo.